Si è svolta presso il Tribunale di Firenze la prima udienza del processo civile per il risarcimento ai familiari delle vittime per la strage nazi-fascista del luglio 1944 a Cavriglia. Figli, nipoti, pronipoti hanno sottoscritto l'istanza collettiva avviata all'indomani del decreto legge del 30 aprile del 2022 che ha stanziato un fondo nazionale da 61 milioni di euro. Come sindaco con la fascia tricolore addetto Leonardo degli Innocenti Osanni insieme a buona parte della giunta comunale e agli avvocati sono intervenuto preso parte alla prima udienza assieme a molti dei discendenti civili trucidati dai militari della divisione di Hermann Göring per le stragi commesse a Cavriglia fin qui non sono mai stati imbastiti i processi tranne quello penale al generale Schmalz del 1951 che poi venne assolto. Ora da questo processo civile ci aspettiamo finalmente che venga invertita la rotta, lo deve la storia alla nostra comunità. Il giudice ha avviato dunque ufficialmente l'iter, la prossima udienza è stata fissata per il 2 aprile 2024.